Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore con il Leicester qui su Iva23. Quest'oggi prosegue il nostro europeo con l'Inghilterra, affrontiamo in semifinale la Spagna, così dall'altra parte Olanda e Germania. Puntiamo ovviamente alla finale, puntiamo a conquistarci questo europeo, poi nella seconda parte, quindi dopo questa partita andremo a vedere gli obiettivi di questa stagione ovviamente con il Leicester e inizieremo a fare i primi movimenti di calciomercato perché già un paio di cose le sto pensando, abbiamo sicuramente da rinnovare alcuni giocatori e ce ne sono due che vorrei provare a prendere. Uno è un parametro zero, l'altro è una nostra vecchia conoscenza. Se per caso vi siete persi lo scorso episodio mi raccomando recuperatevelo così anche per restare ovviamente aggiornati e in descrizione trovate i primi episodi e i primi video del carriere modernamente di mezzo. Mi raccomando vi invito a supportare quei video, a supportare il canale di mezzo e a supportare ovviamente i vostri youtuber preferiti nel torneo. Trovate inoltre i miei social, quindi Instagram, Telegram, dove c'è il gruppo per parlare di carriera allenatore ma non solo e poi ovviamente anche TikTok dove porto video a tema manga, anime e carte collezionabili. Ora scendiamo in campo contro la Spagna per la nostra semifinale dell'europeo. Intanto l'arrivo dei giocatori saranno protagonisti in questo match prima gli spagnoli, sarà gli inglesi in quanto è andato qui il Foden. Benvenuti al Balchstadion per la prima semifinale di questo europeo, da una parte la Spagna, dall'altra l'Inghilterra. Ecco la formazione degli spagnoli con Unai Simon tra i pali con Carrizo, Laporte, Pau Torres e Cucureia in difesa. Rodri, Dani Olmo e Pedri a centrocampo con Gavi, Ansufati e Sunset. L'attacco a tre, l'Inghilterra che si appresta a fare la foto di squadra e noi intanto adesso andiamo a vedere chi scende in campo. Ramsdale tra i pali, Alexander Arnold con Tanganga, Tomori e Cilwell in difesa. Rice e Bellingham, i due di centrocampo con una linea tre formata da Foden sulla sinistra, Bucaio sacca sulla destra ed Elliot trequartista con Joe Gellart, unica punta per gli inglesi. Adesso ormai non c'è più tempo per chiacchierare Spagna contro l'Inghilterra. Comincia la semifinale dell'europeo, buona partita, saccava da solo. Elliot prova a tagliare lo spazio, poi sacca ancora. Riesce ad entrare in ara, Gellart da solo, ha servito Gellart per appoggiarla. Unai Simon. Denningham lancia Foden, si propone Gellart, Foden l'ha visto, l'ha anche servito. Gellart prova sul primo palo, Joe Gellart 0-1, uno dei migliori marcatori di questa Inghilterra. Una vecchia conoscenza di Mr. Mattox. Ansufati in mezzo per Sunset, calcia al limite dell'attalo. Sunset, Ansufati calcia, Ramsdale devia in corner, prima parata del portiere inglese. Secondo tiro pericoloso della Spagna, adesso Pedri. A Vito Mori la palla passa, Sunset da solo, buca la difesa, 1-1. La Spagna pareggia i conti in questo inizio di secondo tempo. Elliot taglia lo spazio, visto, servito Elliot, Elliot non riesce però a calciare. Unai Simon esce bene, Elliot, porta aperto, trova Declan Rice, Rice contro Unai Simon, Rice, Simon, bravo Rice. Poi Bukayo Saka, Elliot dall'altra parte, visto, invece Foden contro Cariso. Foden prova a piazzarla, Simon, il Foden. Alla in mezzo verso Tanganga, nessuno col disce, trova poi il pallone Scott. Scott, appena entrato Scott, in mezzo per Rice. Unai Simon ancora. Finiscono qui i tempi regolamentari. Spagna e Inghilterra andranno ai supplementari perché l'1-1 non basta, ne ha uno, ne ha l'altro per passare il turno. In mezzo Gellart, stop. Gellart verso Sancho. Sancho! In qualche modo Gellart, un Sancho. 1-2. L'Inghilterra avanti, di nuovo, in questo match. Ma che gol ha fatto? Brutto, 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 brutto fallo di Bellingham. Ha fatto intrinare sul pallone, il giocatore si è girato direttamente sulle gambe. Cartellino rosso per Giugno. Cartellino rosso per Bellingham. In Inghilterra in 10. Fallissimo. Fallissimo. E Bellingham, tra l'altro, non ci sarà per un eventuale finale, ma è ancora tutto da giocarsi, tutto da decidere. Gioca Gellart. Tocco morbido per Oden. In mezzo Gellart, ancora quasi zona tiro. Ci pensa Gellart! Palo pieno. Angelinho, Jeremie Pino, sguardo in mezzo. Pala al centro per Ferran Torres. E si lancia. Non trova la porta. Poi Rice sbaglia. Le trova Jeremie Pino. Alexanderano la palla passa, Jeremie Pino. Conza la regala. Palo. Palo pieno della Spagna, via. Apre su Scott di testa. Verso Tammiabram. Non c'è più tempo. Spagna 1, Inghilterra 2. Siamo in finale. dell'Europeo 2028. Che partita. Che partita. Quel brivido finale con Consa che lascia il pallone così. Alla Spagna. Vuoi dire, prendetevele l'occasione. Ve la do io. Non riuscite a doverla. Ve la do io. Palo pieno. Ramsdale battuto. Alla che torna indietro. Ripartiamo. Finisce qui. Bene, bene. Positiva. Molto positiva la partita. Abbiamo praticamente dominato sulla Spagna comunque. E abbiamo rischiato. Però ci siamo portati a casa una gran vittoria. Giocatore squalificato. Non ci sarà. Bellingham. Per la finale dell'Europeo. Qualche aggiornamento. Garrett Barnes. Seguibile. Seguibile. Poi abbiamo Blake Fraser. Più o meno. Gli altri poi andrò a man mano mandarli via anche in off camera. Takagi. Non sembra male. Perché non sembra affatto male. Questo Daichi Suzuki. 1.4 milione. Alla faccia Daichi Suzuki. Vieni solo. E poi abbiamo Ryu Kimura. 1.9 milione. Clamoroso anche lui. L'amoroso lo di Ryu Kimura. Ingaggia solo. Venite. Venite. Approdate. Bel lavoro con il nostro programma giovanile. Tra l'altro. Ecco. Apriamo parentesi. Obiettivi. Perché abbiamo. Ingaggia. Un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Fatto. Ingaggia almeno due giocatori con meno di vent'anni. Con un potenziale superiore alla valutazione media. Dei giocatori attualmente in quel ruolo. Meno di vent'anni è tosta. Fama del brand. Tiene i cinque reti inviolate fuori casa questa stagione. Si può fare. Aumenta il livello di esperienza della squadra. Portando l'età media fino a 28 in due stagioni. Perché? Insomma è meglio averla leggermente più bassa. Comunque. Un obiettivo che in realtà per due stagioni noi non credo lo andremo a fare. Champions League raggiunge la finale. Ovviamente. Perché l'obiettivo non deve essere. Facile. Qualificati per la Champions. In campionato vinci la Coppa e fake up. E aumenta il valore del tuo club. Del 15% dentro due anni. Attraverso la cessione dei giocatori. E i ricavi dalle competizioni. Obiettivi. Alcuni più o meno. Alcuni più o meno. Dong è contento di andare in prestito. Farcas contento di essere ceduto. Però. Però. C'è un però. Perché io alla fine penso di tenere Dong. Aspetta per il prestito di Keepers. Prestito con diritto di riscatto. No. Anche solo prestito di un anno. Farci può stare offerta. Dalla Roma per Roccatelli. Dalla Roma per Roccatelli. Che rifiutiamo. Cambiato idea. Dong. Tranquillo. Giocherai. Bussa contento di essere ceduto. Va bene. Masonise in realtà non tanto. Pace. Tra l'altro ragazzi. A proposito di calcio mercato. Vado a fare il primo investimento. So che è abbastanza grosso. So che forse troppo. Importante. Però. 34 anni. 91 di overall. Ederson. Tra gli svincolati. Può davvero essere il nostro portiere titolare. Castils. Ci saluterà. La metteremo sul mercato. Bazzunu ovviamente resta. Il nostro secondo portiere con cui si alternerà con Ederson. Anche perché affiderò sicuramente alla gran parte delle partite ad Ederson. Però Bazzunu comunque ha sorpreso lo scorso anno. Non lo andrei a svendere così o a lasciare lì in panchina e basta. Ederson però vuole essere quel giocatore un po' più d'esperienza. Vuole essere quel giocatore da Champions League. E soprattutto visto che il Manchester City non ha più creduto in lui. Ci crediamo a noi. Lui ovviamente vuole farsi ancora la Champions. Ignora clausola. Due anni. 140.000. Togliamo il bonus. Togliamo il bonus delle reti inviolati. 140.000 va anche bene. Possiamo stare. 150. Va bene dai. 150 lo possiamo accettare. Ederson è un nuovo giocatore del nostro Leicester. Arriva il colpo da 90. O meglio da 91. Per la porta. Il nostro budget attualmente è di 186 milioni. 186 milioni che voglio andare ad investire su un giocatore in particolare. Spero di non investirci tutto. In realtà. Vorrei parte del budget comunque tenerlo. Ma voglio provare a puntare il buon caro e giovane ma vecchio Christian De Angelis. 23 anni. 89 di overall. Voglio che sia lui il nostro perno d'attacco. Un po' romantico. Un po' no. Perché comunque noi l'abbiamo avuto al Pisa. In serie B. L'abbiamo lanciato nel calcio che contava. Adesso noi riamo all'Eister. In Champions. Vogliamo giocarci tutto in quest'ultima stagione di FIFA 23. E voglio puntare proprio da dove abbiamo iniziato. Christian De Angelis. Nostra vecchia conoscenza della primavera. Nostro talentino. Proviamo a riportarlo a casa. Il giocatore è clamoroso. Però per la stagione che vogliamo fare. Secondo me ci può. Ci può anche stare. Allora. Masuanise o Buxa. Forse più Buxa cederei. 12 milioni. Noi ve ne diamo. 100. 100 e Buxa. Puoi stare. No. Non ci stanno. Quanto vogliono. La trattativa sembra giunta a un punto morto. La vostra petta non si avvicina lontanamente al valore reale. Vabbè. Ci riproveremo ragazzi. Ci riproveremo. E mister apprezzo la sua decisione. Anche se sono rimasto un po' sorpreso. Per non essere stato interpellato prima. Mi sto guardando intorno. Castils. Sono felice che abbia deciso di cederli. Invece a che offerta per Masuanise. Offerta per Masuanise. Dal Trois. Trattiamo. Magari 15 milioni. Riusciamo a strapparli. Carino. Nel senso l'anno scorso l'abbiamo provato. Non è affatto male. Però abbiamo troppi attaccanti. Mi scoccio avere tanti giocatori. Grazie. Arrivederci a fare fatto. 15 milioni. Ragazzi. Noi invece siamo arrivati alla finale di questo campionato europeo. Ci giochiamo il tutto per tutto contro la Germania. Vediamo un match tra pochissimo. Tra l'altro. Formazione che ci vedrà orfani di Jude Bellingham. Pulso. Nella valida contro la Spagna. Però poi forse alla fine magari in qualche modo ci ha aiutato. Vediamo. Intanto scopriamo chi scenderà in campo per questa finalissima. Benvenuti allo stadion Hanguk per la finale tra Inghilterra e Germania per questo campionato europeo. Ha visto le due squadre protagoniste con grandi prestazioni. Inghilterra con Ramsdale tra i pali per questa finalissima. Alexander Arnold, Tanganga, Tomori e Cilwellen. Difesa. Ramsey e Rice a centrocampo con Foden, Sacca ed Elliot. Dietro all'unica punta Joe Gaylard. Figura ovviamente l'assenza di Jude Bellingham. Esculso nella semifinale contro gli spagnoli. Bellingham però ovviamente farà il tifo dalla tribuna. Ramsey scelto per questo match. Gallagher dalla panchina. Adesso un botto di rito per la Germania con Zimmerman tra i pali. Un obiettivo dell'Eister per qualche tempo. Poi il costo troppo elevato non ha permesso l'approdo del portiere tedesco. Nelle Foxes, Kimmich, Ginter, Schlotterbeck, Netz in difesa. Wirtz, Raum, Baku, Musiala. A centrocampo con Kajavers sulla tre quarti. E Adeyemi, unica punta, Inghilterra-Germania. E da giocarsi sul rettangolo di gioco. Buona partita finalissima degli europei 2028. Adeyemi. Kajavers, ancora Adeyemi, ancora Avers, ancora Adeyemi. Che prova a calciare a giro. Alla fuori. Musiala, Alexander Ramos da su di lui. Ancora Musiala lo aspetta, palla dietro. Raum, calcio Avers. Ramsdale. Kimmich, Baku. In mezzo Adeyemi, Ramsdale. In due tempi. Schlotterbeck. Lo marca Uomo. In mezzo. Gellart. Può sorprendere tutti. Facile, però. Per Zimmerman. Baku Chilwell, su di lui Baku. In mezzo. Per Musiala. 0-1. Germania avanti. Sfrutta la velocità. La squadra tedesca. Avers salta tutti. Avers da sola. Avers. La traversa. Poi Tanganga riesce a chiudere in qualche modo. Ram 6. Gellart. Elliot. Abraham. Ci pensa col destro. Zimmerman. E via. Forse neanche in angolo perché recupera già una tanta. Gellart. Abraham. Sancho. Zimmerman ancora. Adesso Sancho. Vuole provare a rientrare sul destro. Sancho. Ci pensa al destro. Zimmerman. Poi Gellart è lì. Non riesce. Non riesce a ribattere in porta. Finisce qui. Inghilterra 0. Germania 1. La Germania è campione d'Europa. Perdiamo alla finalissima questo europeo. Dispiace. Dispiace. Così. Così dispiace veramente tanto. Perché. Siamo arrivati lì. A un passo. In una valida in cui. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto più fatica del solito. Più che altro. A creare. Perché. Per la tanta fisicità. Tanta presenza. Dei giocatori tedeschi. Però. Hanno fatto bene. Hanno giocato bene. E peccato. Posso dirvi. Posso dirvi peccato. Perché. Secondo me. Potevamo fare qualcosa in più. Potevamo sfruttare qualcosa in più. E subire. Forse leggermente meno. Quindi questo ci avrebbe portato. Ovviamente. A giocarcela un pochettino di più. O non alla Germania. Che ci alza. In faccia. Tra l'altro. C'è Nubel. L'impanchina anche lì. Uno dei volti noti di questo canale. Kimmich. Prende la coppa. E l'alza al cielo. Alzano la coppa in faccia. Forse è la prima volta. Che succede in questa carriera. Saluti e baci. A questo europeo dispiace. Match molto equilibrato. Lo dicevamo anche inizio. Inizio secondo tempo. Non appena abbiamo detto. Abbiamo preso gol. E poi da lì. Abbiamo provato ad attaccare un pochettino di più. Zimmerman ha fatto un partitone. Zimmerman è clamoroso. Prestito per Aguiar. Con diritto di riscatto no però. Diritto di riscatto no. Prestito un anno va bene. Keepers un anno in presito. Va bene. Buxa. 14 milioni e 6. Dall'agliaccio. Va bene. Aspettiamo. Va bene. Intanto ecco che arriva il buon Ederson. Aspettato alla fine degli europei per rincontrare Mr. Martex. Qui con Plata. Confermo uno dei volti più forti di questo Leicester. Parlato anche con la società. Plata sembra voler rimanere con il Leicester. Ederson arriva a Leicester. Invece Masuanise. Ce ne va. Ci saluta. Val Trois. Ci sono un sacco di offerte. Abbiamo la Juve che vuole Lukman. E la rifiutiamo. Aguiar. Per il rischio di un anno. Va bene. A che al Betis. 9 milioni e mezzo. Trattiamo. Perché voglio provare a venderla un pochettino di più. Onestamente. Vediamo se riesce a fare qualcosa in più. Magari 10 e 5 dai. 10 e 5 ci puoi stare. A fare fatto. Molto bene. A che potrebbe andare alla Betis. Altra offerta. Questa per Plata. Questa per il buon Plata. Dal City. Che rifiutiamo. Non voglio rinforzare ancora di più il City. Mikolenko al Newcastle. Mikolenko al Newcastle. Nuss. No no no. Rifiutiamo. Nello scorso episodio vi ho accennato la mia idea di eventualmente cedere Mikolenko per prendere Beruatto. Perché vederlo in panchina alla United mi fa un male al cuore incredibile. Quindi l'unica è la cessione di Mikolenko però non voglio cederlo in Premier. Vorrei evitare il meno possibile di cedere ai giocatori in Premier. Keepers ci lascia in prestito. Va al Brentford. Però Keepers può crescere, può giocare. E saluti anche Buxa. Che dopo una stagione in prestito a Leeds va all'Aiaccio in Francia. L'offerta per il prestito di Bolton. Senza riscatto. Senza riscatto. Tra l'altro Bolton comunque non male. Il giocatore è molto interessante. Betis che acquista Marley Ake. Ci saluta anche a Gyar in prestito. Oggi mille cessioni alla Mien. Bene. Abbiamo a Gyar in prestito. Aggioramento dell'osservatore. C'è Harvey Brandt. Offerta per Mikolenko dal Liverpool. Però restiamo lì. Il discorso è quello. Dal Liverpool non lo voglio cedere. Potrei cedere o mi lo chiedesse eventualmente lo United. Allora andrei a chiedergli per Watto. A che venduto? Offerta per Farkas. Farkas mi è libero. Molto facilmente. Però trattiamo perché... Qualcosina in più potremmo... Potremmo guadagnarlo. Tra l'altro siamo praticamente a 230 milioni ragazzi. Un budget incredibile. Forse mai avuto così alto. Torniamo a che trattativa assalti. Quindi Braga che interviene su Farkas per 4 milioni e 6. Potrebbe essere un'altra delle cessioni imminenti. Io aspetto con ansia un'offerta per Castils. Per liberarmene. Accettiamo il prestito per Bolton. Non avrei mai pensato di dirlo. Ma abbiamo 227 milioni per il nostro calciomercato. E ragazzi voglio fare l'investimento. Voglio provarci di nuovo e vediamo quanto chiede eventualmente il Borussia Dortmund. Di appunto 136 milioni. Noi comunque tra tutto abbiamo offerti 112, 115. Mi sembra un po' strano questo allontanarsi così tanto. Ma vi prendeste Castils? Puoi stare. Puoi stare. Vogliono Giri e 93 milioni. Ma anche no. Ma anche no. 130. 130 dai. 140. Bah. Pensavo mi chiedessero di più. 135 e si può chiudere. 135 milioni e si può chiudere. Ci avrete tempo per riflettere. Mannaggia, mannaggia l'oro. Mannaggia l'oro. Stimulazione veloce. Nella partita Leister contro Real Societad. Speriamo in una vittoria. In realtà io ho un pareggio. Segna però Palmer. Segna però Palmer. Bene. Sono contento. Segna anche Chukwemeca. Tra l'altro, a proposito di discorso sulle fasce, stavo sperimentando il discorso che noi adesso abbiamo ceduto il buon Marley a che è sulla sinistra, però ci è arrivato Palmer sulla destra. Noi attualmente sulla destra avremmo Palmer, Plata e Lukman. Se noi spostassimo Lukman sulla sinistra saremmo praticamente a posto. Non dovremmo più fare investimenti. Due settimane diventa un esterno sinistro. Della Vega e Lukman da una parte, Plata e Palmer sulla destra e ci evitiamo potenzialmente un acquisto. Poi magari un esterno in più può sempre arrivare. Però almeno abbiamo meno la pressione di dover per forza comprare un esterno sinistro. Ci saluta Bolton, se non sbaglio. In presido. Andiamo nelle mail. Accettata l'offerta per De Angelis. Fermi, 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 fermi. Poi offerta per Farkas. 3,8 e Chukwemeca dal Torino. Ci offrono 30 milioni, proprio niente. Quindi rifiuto direttamente... No, chi c'era? Ecco perché così poco. C'erano Dombele più 30 milioni. Rifitiamo comunque. Chukwemeca mi piace parecchio. Farkas trattiamo. 3,8. 4,5 almeno, dai. A fare fatto. Molto, molto bene. Molto, molto bene. E ragazzi, per te inviate... Cristian De Angelis. Ci dia 10. Può tornare. Può tornare a 10 o a 11. No, forse la 11 gli diamo. Forse la 11. No, è cruciale. Però va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Cruciale assolutamente sì. 5 anni, così rimani qui all'estere. Ignora clausola. Stipendio, non lo chiede lui. Allora, siccome arriva in premier, sicuramente vorrà un po' di più. Io gli offro 100... 140 mila. Come ad Ederson, più un milione e tre di bonus. Aggiungi bonus. Somma di 500 mila. Errivi a 20 gol. Avanzo offerta. Mi sembra un'offerta equa. Il mio assistito ha deciso di accettarla. Ragazzi, non sembra vero. Ma Cristian De Angelis è un nuovo giocatore del nostro Leicester. Qualche stagione dopo. Qualche stagione dopo passa di nuovo tra le grinfie. Così per dire di Mr. Matex. Ecco intanto la sua presentazione. Le foto al buon De Angelis. Gli autografi sul pallone. Bellissimo. Non ho ancora... Non l'ho mai vista questa presentazione. Dietro anche, penso, giornalisti. Intervengono su di lui. De Angelis forse è così perché è davvero un colpo incredibile. Ci fa l'occhiolino. Via 11. Cristian De Angelis è il nuovo giocatore del Leicester. Ritrova Mr. Matex. Il top player adesso c'è. Lì davanti. Dal Borussia Dortmund 135 milioni sono tanti. Sono veramente tanti. Però... Però De Angelis, ragazzi. Pensare che noi l'abbiamo preso. Probabilmente dalla prima guerra aveva tipo 2 milioni. Come valore, 3 milioni. Si prende la 11. Di prepotenza. Arriva il buon Cristian De Angelis. Lì davanti. Si ricorda di usare i cambi? Assolutamente sì. Offerta... Attenzione. Offerta ci danno Salas per un CoC. Però trattiamo in realtà perché col Pisa va bene. Nel senso Castils lo do volentieri a loro. Questo scambio nel multiverso. No, non voglio prendergli... Prendergli i giocatori. Lui vale 4 milioni. Ne chiedo 5-5. 5-5 ci potete stare. Non vogliamo che la trattativa salti. Molto bene. Tra l'altro cos'è? Ferguson al Pisa. Ma... Non voglio farmi domande. Paris Saint Germain. Ci offre 9 milioni. Ci offre 9 milioni più Luca Romero. Luca Romero è interessante. Luca Romero è interessante per la fascia destra. Però in realtà è arrivato Plata. Cioè abbiamo Plata, è arrivato Palmer. Pensiamoci. Pensiamoci. Io a questo punto staccherei qui l'episodio. Stiamo andando forse un pochettino più a rilento rispetto agli scorsi inizi di stagione. Ma siccome è l'ultima voglio prepararla proprio per bene. Per arrivare super pronto e super carico. Alla finale. Ragazzi. Offerta dal Paris Saint Germain per Turam. Noi possiamo chiedere fino a 115 milioni. Quindi in realtà io punterei su quello. Punterei su quello non tanto a Luca Romero. Luca Romero è interessante. Però secondo me meglio... Meglio 115 milioni. Noi ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando. Vi ricordo di non perdervi da qua la preparazione della stagione. Abbiamo ancora 83 milioni. Nonostante abbiamo spesi 135 per De Angelis. Roma e Lipsia. Le due partite ancora di precampionato. E poi inizierà la nostra Premier. Nel prossimo episodio. Probabilmente vedremo anche l'esordio in questa stagione in Premier League. Tanto altro calcio mercato. Trattative in entrata. Trattative in uscita. Oggi sono arrivati però due colpetti da 90 incredibili. Perché tra l'altro... Tra l'altro. Se li mettiamo insieme fanno 90 di overall di media. Comunque. Ederson tra i pali. 91 di overall. E De Angelis davanti. 89 di overall. La squadra prende forma. Noi mi raccomando. Ci vediamo in un prossimo video. Non perdetevi questa stagione. Il bomber giri richiestissimo. Potremmo valutare. Potremmo valutare la sua gestione. Però pensiamoci più avanti. Ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul mio canale. Mi raccomando. Fatemi sapere con un commento. Che cosa ne pensate. E trovate tutti i link utili in descrizione. E ci vediamo alla prossima. Sempre qui. Con il Leicester. Ciao ragazzi. 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 Ciao ragazzi.